buongiorno a tutti ben trovati amici di le fonti tv questo oggi è uno spazio un appuntamento speciale direttamente live dai nostri nuovissimi studi in centro a milano in via dante in piazza cordusio proprio per celebrare le eccellenze italiane il nostro appuntamento con i le fonti awards naturalmente versione tv e anche oggi ci troviamo insieme a voi per come stavo dicendo prima premiare le eccellenze italiane in ambito imprenditoriale professionale quindi con i nostri le fonti awards 2020 tra poco andremo nel dettaglio parleremo diciamo così di tutto quello che compete con una realtà che vi racconteremo e vi spiegheremo in questo slot televisivo prima però fatemi subito dire qual è la categoria di riferimento di oggi la categoria come avete visto dalla nostra grafica e dalla nostra inter sigla è studi e boutique legali e professionali il premio di riferimento è avvocato dell'anno project finance energy e vince il premio l'avvocato fabio giuseppe angelini fondatore dello studio legale associato pubblico angelini and partners buongiorno mi permetta mentre lei è qui di leggere anche la motivazione questo è il suo premio tra poco io glielo farò avere il professionista possiede una notevole esperienza in operazioni complesse con una predilezione per l'area energy è tra i più preparati del settore in grado di unire un'elevata competenza della materia con una spiccata capacità di comprendere le priorità del cliente e anticiparne le esigenze questo è il suo premio mi permetto di passarglielo così lo può tenere e le chiedo subito benvenuto intanto da noi e le chiedo subito un commento a caldo ma davvero grazie per questo riconoscimento che peraltro giunge in una giornata per me speciale importante per ragioni personali quindi una doppia valenza una grande responsabilità per il futuro in un momento di grande turbolenza del mercato legale anche dei nostri clienti quindi grazie davvero per questo riconoscimento sa noi l'abbiamo sempre detto spesso poi adesso entriamo un po più nel merito anche di quello che è di quella che è la sua professione e le fonti words premiano le eccellenze italiane in ambito professionale e proprio anche personale se vogliamo no perché poi le due cose vanno di pari passo ancora di più utilizzo questo termine personale in un momento come quello che abbiamo vissuto tutti quindi nel pieno dell'emergenza covid coronavirus e anche con tutto quello che questa emergenza ha portato quindi credo che ancora di più sia da sottolineare io le chiederei subito avvocato proprio di partire da questo da questo contesto che abbiamo sperimentato tutti cioè quello del coronavirus come cambia il lavoro degli amministrativisti in questo particolare momento in questo frangente e soprattutto quali strategie vengono in qualche modo studiate proprio per far fronte al cambiamento che c'è stato in effetti è una domanda davvero molto impegnativa voglio precisare un aspetto che è un po preliminare il diritto amministrativo è in realtà in una costante evoluzione ormai da oltre vent'anni anzi da trent'anni a questa parte dagli anni 90 quello che in qualche modo caratterizza questo settore un grande dinamismo che ha in qualche modo colpito vari ambiti dall'aspetto organizzativo della pubblica amministrazione soprattutto legata ai processi di liberalizzazione i processi di privatizzazione che hanno sostanzialmente visto affacciarsi nell'ambito della clientela tipica di un amministrativista nuovi soggetti mi riferisco alle società partecipazione pubblica così come pure alle società in house e in generale a tutte quelle forme di partenariato pubblico privato istituzionale che con gli anni abbiamo imparato a conoscere sul fronte invece dell'attività molto è cambiato a partire dalla legge del 1990 sul procedimento amministrativo che ha in qualche modo richiesto delle nuove competenze nella partecipazione ai processi decisionali pubblici ma non solo se pensiamo per esempio a tutto il mondo della regolazione che si è affacciata in modo rilevantissimo in questo ambito e al mondo degli appalti che è stato interessato negli ultimi vent'anni da due riforme strutturali importanti che ci hanno messo nelle condizioni di dover reinterpretare questo mercato e questo settore del diritto quindi in qualche modo l'emergenza non posso dire che abbia modificato un settore già in grande fermento che interrogava già in modo rilevante gli amministrativisti rispetto al modo di interpretare la professione sicuramente però ha in qualche modo evidenziato alcune criticità le ha evidenziate in modo ancora più evidente rispetto ad alcune consapevolezze che questo settore già aveva che era già diffusa negli operatori quali sono queste criticità innanzitutto c'è un profilo dimensionale le nostre boutique di amministrativo erano sostanzialmente pensate per affrontare per assistere i clienti sul fronte litigation cosa che evidentemente in un mercato dove il litigation è sempre più va sempre più assumendo una conformazione di una commodities in realtà ci porta a dover modificare molto le nostre modalità operative guardando a ulteriori mercati questi ulteriori mercati che oggi rappresentano una chiave importante del settore del diritto amministrativo sono secondo me principalmente tutto il mondo del regulatory e quindi tutte le esigenze del day by day nell'assistenza alle imprese che operano in mercati ad alta regolamentazione pubblica e tutto il mondo transaction perché oggi su alcuni settori in particolare nei settori cosiddetti infrastrutturali che passano appunto dall'energia fino alle infrastrutture in ambito stradale e aeroportuale ma anche quelle sociosanitarie evidentemente rappresentano un'opportunità di investimento importante noi come pubblico come sapete pubblico se uno studio nato nel 2018 come evoluzione di una joint venture che avevamo lanciato nel 2013 con il professor scocca uno dei decani del diritto amministrativo si è posta di fronte all'esigenza di dovere in qualche modo di fronte all'emergenza accelerare alcuni processi che erano già in atto noi abbiamo fatto nascere Publius insieme ai miei soci che ringrazio con l'idea appunto di costruire un progetto che potesse guardare all'amministrativo peraltro su una piazza come quella di Milano molto legata al mondo transaction in ambito M&A in ambito project proprio con l'obiettivo di superare questi gap esistenti nel settore oggi abbiamo dovuto dare una spinta in più ed è questo il motivo per cui dall'inizio di settembre lo studio ha intrapreso un percorso di fusione integrazione con lo studio Lipanica Tricalà che ci porterà da qui alla fine dell'anno a diventare un player nazionale quindi con una presenza fortissima su Roma e su Milano molto molto forte sul mondo transaction e regulatory che ci dovrebbe porre questo è il nostro obiettivo come davvero leader nei mercati energetici infrastrutturali lato assistenza nel settore pubblico diciamo quindi che le due parole chiave che lei ha esposto insomma raccontando anche quello che avete vissuto in questo ultimo periodo sono accelerazione e a me piace usare anche un'altra parola che è un po' una rimodulazione di alcuni processi che magari fino a questo periodo al pre-covid come ormai lo chiamiamo erano rimasti un po' latenti quello che mi è perso di capire è un po' questo quindi l'accelerazione rispetto a dei processi che comunque sarebbero avvenuti avvocato questo è un po' il senso poi chiaramente dipende anche dalle competenze e dalla capacità se si è in grado anche di recepire queste spinte che arrivano ma guardi vale un po' in tutti i settori e quindi anche in quello legale a maggior ragione nello specifico nel settore del diritto amministrativo le tendenze sono in atto ormai da diversi anni l'accelerazione impone un'innovazione una capacità di guardare con occhi diversi una realtà che nel frattempo si è evoluta e l'emergenza ci pone irrimediabilmente di fronte ai nodi strutturali dell'offerta nel campo del diritto amministrativo ecco cercando anche di essere un po' lungimiranti cominciamo a guardare un po' al futuro a partire però proprio da queste sfide tra virgolette che il coronavirus ci ha messo di fronte volenti o nolenti ora la prospettiva è il recovery fund se ne parla tantissimo quindi i fondi che arriveranno proprio dall'Europa ecco io vorrei capire da lei quali opportunità potrebbero arrivare proprio dal recovery fund quindi parlando di tutti quegli investimenti infrastrutturali tra fondi e normativa pubblicistica quindi mettere un po' sul tavolo scenari e prospettive ma allora l'osservazione è molto corretta e la condivido il recovery fund rappresenta al di là di quelle che possono essere le aspettative le previsioni anche più rose e più ottimistiche una grande opportunità c'è da dire un aspetto però che il mondo delle infrastrutture i mercati energetici i mercati sanitari in qualche modo rappresentano un'opportunità da diversi anni anche perché se c'è una cosa che non è mancata negli ultimi anni sono state le risorse nel senso che la liquidità presente sui mercati è sempre stata negli ultimi anni molto molto importante a partire dagli interventi del quantitative easing in poi quindi la possibilità di la disponibilità degli investitori a investire risorse in asset alternativi come questi era già esistente da anni il recovery fund rende però attuale una tendenza che è quella all'interventismo pubblico che in qualche modo negli ultimi anni era stata sempre vista con sfavore da quelle che erano le istituzioni europee che invece oggi possono diventare un volano importante per la ripresa qui però scontriamo alcune difficoltà che sono di tipo strutturale nel senso che abbiamo grandi possibilità finanziarie oggi gli investitori guardano con grande interesse a tutto il mondo delle infrastrutture viare, aeroportuali, portuali al mondo delle infrastrutture strategiche, al mondo sociosanitario e non solo permettetemi di dirlo anche l'edilizia scolastica che può sembrare qualcosa un po' di micchia ma rappresentano un volano importante specie sulle economie territoriali fatte da piccoli comuni come la nostra realtà territoriale e socio-economica ora qui noi abbiamo come amministrativisti a mio giudizio una grande responsabilità e una grande opportunità che ci impone di guardare in modo innovativo come dicevi tu ai processi e ai servizi quindi dare servizi diversi che non possono come dicevo prima essere soltanto legati al contenzioso ma devono guardare un po' oltre questo richiede dal nostro punto di vista l'acquisizione di nuove competenze c'è chi, come nel mio caso, io ho avuto la fortuna di formarmi in studi multipractice dove per me l'integrazione tra diritto pubblico e diritto privato era un po' una costante del mio lavoro e anche la capacità di dialogare, di lavorare su contesti transaction quindi nell'ambito di operazioni M&A e nell'ambito di operazioni project e anche tutto quello che è il mondo della finanza pubblica i vincoli che in qualche modo reggono questo settore, questo ambito rispetto ai quali questi investimenti in qualche modo devono fare i conti rappresentano un'opportunità ecco il nostro studio in qualche modo ha cercato di guardare con attenzione a questi mercati penso che dovremo farlo sempre di più nel futuro e le opportunità non mancheranno Un'altra cosa che le vorrei chiedere riguarda un po' gli strumenti un'altra macro categoria che poi ha a che fare direttamente con il lavoro e quindi mi piacerebbe parlare della disciplina l'era già un po' citata, del partenariato pubblico e privato questi due poli che lei appunto ha preso giustamente per raccontarci quello che avete in prospettiva avete pensato, state già pensando in prospettiva futura e soprattutto il nodo della progettualità quindi a partire da qui tutto il discorso della progettualità Ma allora la grande opportunità che noi abbiamo di sviluppo di operazioni in questo ambito anche sfruttando i fondi del recovery fund in qualche modo passano per questo strumento che è un po' una parolina passepartout degli ultimi anni che si chiama partenariato pubblico privato Operazioni di PPP ne abbiamo viste negli anni tantissime noi abbiamo lavorato su tantissime operazioni ieri hanno inaugurato la piattaforma logistica di Trieste un investimento da 130 milioni di euro con un contributo pubblico e un project financing privato dove noi abbiamo assistito il pool di banche ci sono state operazioni nell'ambito dell'edilizia universitaria operazioni di efficientamento energetico sui poli museali della regione siciliana piccole scuole, impianti natatori insomma è un mondo davvero ricco di opportunità che sconta anche qui un gap che è di tipo culturale perché molto spesso le amministrazioni sono portate a guardare, interpretare e gestire i contratti di partenariato pubblico privato come se fossero degli appalti di lavoro sono operazioni complesse sono negozi giuridici in qualche modo interconnessi che presentano una pluralità di rapporti negoziali che richiedono un'attenzione sia nella fase di costruzione che soprattutto nella fase di gestione e manutenzione di queste operazioni che richiedono appunto delle competenze interne alle amministrazioni ed esterne alle amministrazioni di tipo molto molto elevato e in parte sofisticato dal punto di vista invece del gap culturale c'è evidentemente un tema di competenze interne all'amministrazione e di vincoli esistenti che sono ancora molto rilevanti e rappresentano un freno rispetto probabilmente al volano che questo tipo di iniziative potrebbe portare ai fini del rilancio del Paese del sistema economico nazionale ecco su questo probabilmente molto farebbe modificare quelle che sono le regole dell'interlocuzione tra sponsor privati e amministrazione e anche dare una maggiore margine un maggiore margine di flessibilità nella possibilità che le amministrazioni possano in qualche modo affidare a soggetti esterni le attività di progettazione e di, permettetemi di dire ingegnerizzazione dal punto di vista giuridico e finanziario di questo tipo di operazioni quindi c'è molto da fare da questo punto di vista Cassa Depositi e Prestiti è sicuramente un player importante che sta lavorando anche a fianco delle amministrazioni per dotare le amministrazioni di quelle competenze che mancano molto potrebbero fare le finanziarie regionali a partire per esempio da Filombarda qui in Lombardia ma guardo anche ad altre regioni soprattutto del nord e anche del sud Italia che potrebbero attrezzarsi questo mondo si è molto focalizzato e polarizzato sulle infrastrutture cosiddette brownfield quindi abbiamo conosciuto i grandi interventi di grandi fondi come F2I piuttosto che come fondi internazionali che operano nel mondo delle infrastrutture il tipo di operazioni greenfield di taglia media e con un forte radicamento territoriale probabilmente hanno bisogno di investitori istituzionali meno sofisticati e qui le casse di previdenza possono davvero svolgere un ruolo importante concludo dicendo e ricordando un dato che a me ha colpito molto a fronte di una capitalizzazione di una patrimonializzazione importantissima delle casse di previdenza soltanto pensate il 4% di questa ingente massa di risorse sono investite nell'economia reale se noi riuscissimo a lavorare insieme alle amministrazioni insieme ai fondi e insieme alle imprese di costruzione su questo fronte potremmo davvero al di là del recovery fund e oltre il recovery fund avviare una grande stagione di sviluppo certo, ci auguriamo che sia così anche perché effettivamente questi temi proprio in seguito all'emergenza del coronavirus e anche perché sono stati giustamente messi in luce dall'Europa quando sono state stabilite le linee guida del recovery fund devono essere sempre più incentivati la sinergia è importante lei però in conclusione però diventa anche un po' di buon auspicio ha utilizzato un'altra parola che è quella della flessibilità che io unisco anche a snellezza cioè ci auguriamo che tutta questa sinergia possa portare anche a una velocizzazione in tutti quei processi che oggi diciamocelo in Italia magari sono ancora più rallentati ma credo che il suo ragionamento andasse proprio lì bisogna lavorare tutti insieme anche per questo allora molto spesso le alentezze burocratiche dipendono dalla non conoscenza degli strumenti che si hanno a disposizione quindi tante volte le amministrazioni di fronte a strumenti complessi in qualche modo rallentano perché non sono particolarmente in grado di gestire anche perché hanno il timore che magari in sede di controllo qualcuno possa contestare l'applicazione di strumenti innovativi che pure la legislazione soprattutto quella di derivazione comunitaria offre da questo punto di vista quindi superare quel gap di competenze è un elemento fondamentale dopodiché sicuramente perché gli amministrativisti possono svolgere un ruolo importante in queste dinamiche perché qualcuno potrebbe dire sì ma in fondo l'amministrativista è sempre in qualche modo attraino dei professionisti che operano nel mondo project nel mondo M&A ecco questo tipo di operazioni hanno come riferimento l'asset quindi la conoscenza dell'asset diventa invece in queste operazioni il fattore trainante quindi l'unico modo per approcciare correttamente queste operazioni è partire dalla strutturazione giuridica dal punto di vista giusto pubblicistico delle operazioni per poi costruire la parte project e la parte M&A io penso che questa possa essere una chiave importante e anche uno scenario per il nostro settore è giusto che questa chiave l'abbia data a lei allora io la invito a prendere il suo premio così se lo può tenere tra le mani mentre io ricordo appunto in questa edizione speciale dei nostri awards avvocato dell'anno project finance energy l'avvocato Fabio Giuseppe Angelini fondatore dello studio legale associato Publius Angelini & Partners per la categoria studi e boutique legali e professionali grazie e complimenti a nome di Le Fonti TV e di Le Fonti Awards grazie grazie ancora e al prossimo premio speriamo ed adesso in avanti bisogna lavorare per averne tanti altri di premi proprio per contribuire al sistema Italia dai mettiamola così grazie ancora al mio gradito ospite grazie a tutti voi per averci seguiti sui Le Fonti TV Awards grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori